Un'autovelox nel punto della strada regionale 71 dove perse la vita Federica Canetti a soli 22 anni. A un anno e mezzo dal tragico incidente è arrivata la delibera di giunta del comune di Arezzo, chi ha dato il via libera definitivo all'acquisto e all'installazione del dispositivo. Sarà installato al chilometro 134 più 304 all'interno del centro abitato di Vitiano, nella parte sinistra della carreggiata. Per l'acquisto il comune ha deciso di impiegare la cifra di 70.000 euro entrate nelle casse pubbliche dalle multe per le violazioni al codice della strada. Il dispositivo avrà una lettura bidirezionale e sarà collegato al comando della Polizia Municipale. L'installazione dell'autovelox lungo una delle strade più pericolose della provincia di Arezzo aveva già ricevuto l'autorizzazione della prefettura e nulla ossa della provincia. A presentare richiesta per l'allestimento del rilevatore era stato il comandante della Polizia Municipale Aretina Aldo Poponcini anche a seguito dell'incidente mortale. Era l'8 ottobre del 2022 quando la studentessa di Castiglion Fiorentino perse la vita, viaggiava in auto con quattro amici in direzione Arezzo. All'altezza di Vitiano, il fuoristrada, l'auto su cui si trovava Federica, alla cui guida c'era un 23enne, viaggiava alla velocità di oltre 130 km orari. Il giovane ha patteggiato poi una condanna a tre anni.